Questa giornata nasce un po' dall'opportunità che ci offre la Fiera di Bologna come spazio sia per quanto riguarda l'aula congressuale, sia per quanto riguarda uno studente dove noi abbiamo dedicato quest'anno degli spazi specifici a delle visite fisiatriche gratuite fatte da nostri colleghi fisiatri. Il tema della giornata riguarda sia la parte sul lavoro che abbiamo fatto due anni fa, quindi una parte conclusiva con un imprenditore che ci ha spiegato stamattina in maniera egregia come lui fa ad assumere persone disabili e che queste persone disabili sono realmente una risorsa e non un aggravio alla società e oggi il proseguo della giornata va con sport e disabilità in cui andremo a discutere con vari esponenti nell'ambito sanitario delle persone che in seguito a una disabilità si sono inserite nel mondo dello sport con dei risultati veramente brillanti.